benvenuti a venezia prepara e dobbiamo prepararci per il carnevale ma io non posso decidere quale maschiera sarebbe meglio a portare questa o forse questa che ne pensate cosa cosa avete detto ma che significa carnaval è annulato la peste nera allora dobbiamo preparare non per il carnevale ma per il peste questa la maschiera che dobbiamo adesso portare allora non c'è carnaval in quest'anno che dobbiamo che possiamo fare niente niente signore